allora innanzitutto partiamo dalla dalla norma la norma oggi è l'articolo 83 comma 8 del decreto legislativo 50 del 2016 che prevede che i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni appena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti dette prescrizioni sono comunque nulla quindi se leggiamo la norma sembra chiara diciamo nella sua previsione rigida cioè quello che si può inserire nei bandi e nelle lettere d'invito sono le prescrizioni previste dalla legge non previste dalla stazione appaltata quindi solo quelle che sono diciamo quelli che sono i requisiti previsti appena di esclusione sembrano essere attinenti diciamo a una causa di esclusione non diciamo ulteriori inserimenti previsti dalla dalla stazione appaltata per esempio documenti che non rappresentano dei requisiti trattasi appunto del principio di tassatività delle cause di esclusione le cui finalità la cui finalità di tale principio è quella di ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese che partecipano alle procedure di affidamento così privando di rilievo giuridico tutte le ragioni di esclusione delle gare incentrate non sugli aspetti qualitativi della dichiarazione negoziale ma sulle forme con cui questa viene esternata in quanto non ritenute conformi a quelle previste dalla stazione appaltante nella lex specialis questa è una pronuncia del 2017 del consiglio di stato che è importante perché ci indica un po la razio del principio di tassatività delle cause di esclusione la razio qual è è quella di evitare degli oneri formali eccessivi che comportano esclusione dalla gara a carico degli operatori economici e questo naturalmente fa il paio con il principio del favor no partecipazioni per gli operatori economici quindi riduzione degli oneri formali quindi non può avvenire che una stazione appaltante si inventi delle delle clausole magari anche generalizzate di esclusione no fino a qualche tempo fa non era inusuale no quella quella clausola di stile che prescriveva appunto che la mancata presentazione di uno soltanto dei documenti previsti per la partecipazione alla gara costituiva causa di esclusione e questa petizione di principio generica sulla indicazione generalizzata della mancata presentazione di uno solo dei documenti richiesti dalla stazione appaltante anche se i documenti non sono agganciati ai requisiti costituiva esclusione dalla gara bene questo è pacifico non può più avvenire proprio perché il principio è quello della riduzione degli oneri formali a causa delle imprese anche se si dimenticano un documento quindi documento che però non deve essere appunto agganciato a un requisito ci deve essere la possibilità sempre di agganciare di applicare il soccorso istruttore e quindi consentire la partecipazione alle alle gara il problema è individuare diciamo quelli che sono i documenti che prendono requisiti e quelli che invece sono semplici documenti ma cerchiamo di capirlo insieme in materia di questa una sentenza molto importante e recente del dell'adunanza plenaria del consiglio di stato che costituisce un po il nostro faro diciamo per l'applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ed è una sentenza recente appunto dell'ottobre del 2020 allora in materia di appalti pubblici rileva il principio delle di tassatività delle cause di esclusione affermato dall'articolo 83,8 del decreto legislativo 50 del 2016 sicché la discrezionalità comunque non illimitata né insindacabile quindi vedete è molto importante perché ci dice quali sono gli elementi da valutare quindi c'è una discrezionalità della pubblica amministrazione ma che non è né illimitata né insindacabile nel disporre ulteriori limitazioni alla partecipazione ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge integranti speciali requisiti di capacità economico finanziaria o tecnica che siano coerenti e proporzionati all'appalto e potere ben diverso dalla facoltà non ammessa dalla legge di imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacono la partecipazione alla gara senza adeguata copertura normativa e in violazione del principio di concorrenza ecco vi chiederei proprio di focalizzare la massima attenzione su questa sentenza della donanza primaria del Consiglio di Stato perché il nostro faro cioè quella è la pronuncia che da parte del massimo diciamo organo giurisdizionale amministrativo quindi equivalente alle sezioni unite diciamo della Cassazione nell'ambito degli organi amministrativi giurisdizionali e quindi ci dà queste indicazioni che sono molto importanti quindi ci dice che innanzitutto c'è una discrezionalità della pubblica amministrazione nel disporre limitazioni alla partecipazione ulteriori rispetto a quelle diciamo previste dalla legge che comportano esclusione alla partecipazione ma questa discrezionalità non è non è ampia perché non si non non è ammesso imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara senza adeguata copertura normativa quindi sempre l'aggancio con una norma ci deve essere e in violazione del principio della concorrenza quindi questo questo è il nostro faro purtroppo vedrete che anche avendo diciamo il faro che illumina il cammino dell'individuazione delle cause di esclusione quelle che sono legittime quelle che non lo sono e purtroppo comunque avremo delle delle incertezze interpretative però è già importante avere questa questa pronuncia vediamo quest'altra situazione si può escludere dalla gara un'offerta tecnica senza la previsione del bando di gara stiamo parlando della dell'offerta tecnica che non ha propri requisiti diciamo per per essere esclusa allora in questo caso nel senso che un'offerta tecnica non trova proprio aggancio diciamo nel nel in quello che è stato richiesto dalla dalla gara ma se non c'è una una previsione espressa del bando di gara possiamo escludere questa offerta tecnica capita sarà capitato anche a voi tante volte di avere offerte che non hanno nulla a che vedere diciamo sono completamente sganciate frutto di copia in colla né magari nella fretta da parte di operatori economici con diciamo quello ma in questo caso se non abbiamo un una espressa previsione di esclusione il bando di gara possiamo escludere l'offerta tecnica e conseguentemente ovviamente anche l'operatore economico allora vediamo la risposta il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano essere esclusse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una si fatta situazione di incertezza assoluta cosa che diciamo però non era prevista nel caso che stiamo esaminando tale incompletezza è sindacabile in sede giudizionale quando il relativo giudizio prescinda dall'esame di profili tecnico discrezionali intrinseci al contenuto progettuale e riguardi invece difetti palesi che rendano la scelta tecnica abnorme o gravemente inadeguata ovvero riguardi elementi specifici componenti l'offerta autonomamente valutabile questa è una sentenza recente del tar campagna salerno del 9 marzo del 2021 quindi appena di un mese fa quindi il che cosa dice questa sentenza ci dice che è possibile diciamo escludere quando però si tratti di una carenza degli elementi essenziali che proprio non non consentono proprio una valutazione quindi è una eh oppure quando diciamo è eh prevista eh dalla eh dal 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 bando di gara una situazione che tipizzi diciamo che indichi quando ci si trova in questa situazione di incertezza assoluta quindi eh è è più difficile ecco a attivare una una esclusione diciamo del genere proprio in corrispondenza del principio di tassatività delle cause esclusione se non c'è almeno un aggancio diciamo nel nel bando quindi diciamo che la soluzione dovrebbe essere quella di magari assegnare zero al punteggio ma non eh quella di eh appunto escludere automaticamente questa eh questa offerta a meno che diciamo eh non 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 ci sia proprio una carenza tale degli elementi essenziali che non consente proprio una una valutazione ecco di questa di questo offerto solo in questo caso senza la previsione del bando è come se diciamo mancasse un un prerequisito essenziale no che è quello eh diciamo di di presentare un'offerta adeguata eh al contenuto eh del del bando per cui eh però diciamo se eh c'è eh magari una un aggancio e vogliamo evitare eh comunque eh il rischio di una interpretazione e allora bisogna eh bisogna eh bisogna eh inserirlo inserire nel bando quando eh siamo in presenza di una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta allora in quel caso la tipizzazione diciamo di questa situazione consente all'amministrazione tranquillamente di operare la eh sua eh valutazione peraltro queste non è che sono eh diciamo eh circostanze irrilevanti eh sembrano ma eh soprattutto eh purtroppo eh chiaramente eh voi sapete negli appalti non è che partecipano eh soltanto la maggior parte sicuramente sono eh operatori economici eh onesti attenti eccetera altre volte invece sono sono come dire eh partecipazioni eh anche frutto di accordi eh illeciti per cui eh bisogna stare attenti eh anche a queste situazioni eh perché poi incidono chiaramente sul eh sulle offerte sul sul numero sulla eh sulla 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 anomalia dell'offerta quindi bisogna stare molto molto attenti diciamo anche a queste a queste situazioni. Allora beh questa quest'altra pronuncia sempre diciamo recente ci dice che l'articolo ottanta sui gravi illeciti professionali no? Questo a proposito sempre del principio di tassatività delle cause di esclusione ci fa riflettere proprio il principio di tassatività delle cause di esclusione e gravi illeciti professionali eh voi sapete l'articolo ottanta comma cinque lettera C prevede l'esclusione per gravi illeciti professionali ma gravi illeciti professionali eh sono eh umare praticamente quindi eh c'è una discrezionalità della pubblica amministrazione nell'individuare quali sono diciamo questi gravi illeciti professionali a meno che non rientri in uno dei casi previsti eh di inserimento del casellario informatico dell'ANAC per cui è automatico diciamo l'individuazione del gravi illeciti professionali. Allora l'articolo ottanta questa sentenza ci fa riflettere su questo aspetto l'articolo ottanta del decreto dell'articolo cinquanta del duemilasedici non descrive in maniera tipizzata le cause di esclusione dell'operatore economico dalla gara pubblica di appalto per quanto riguarda appunto i gravi illeciti professionali. Tale norma si limita a stabilire che lo stesso può essere escluso laddove si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità. Pertanto la suddetta previsione normativa costituisce una eccezionale deroga al principio di tassatività delle cause di esclusione perché non è tipizzato cioè noi non sappiamo bene quali sono questi gravi illeciti professionali lasciato alla pubblica amministrazione appunto su cui grava uno specifico onero onere di allegazione e probatorio quindi è la pubblica di amministrazione che deve dimostrare che quell'operatore economico ha commesso un grave illeciti professionali rispetto all'esecuzione di quell'appalto che gli consentirà poi di escludere l'impresa partecipante alla gara che a suo giudizio si sia resa autrice di gravi illeciti professionali tali da minare il rapporto fiduciario con la committente. Quindi sì tassatività delle cause di esclusione ma come come vediamo giustamente il Tarpuglia nella sezione di lecce con questa tendenza ci fa rilevare sì tassatività delle cause di esclusione ma i gravi illeciti professionali non sono un'ipotesi tutt'altro che tassative tanto è vero che la pubblica amministrazione che deve individuare e deve anche provare diciamo l'esistenza di questi gravi illeciti professionali che come sapete si spazia diciamo dalla risoluzione un precedente contratto di appalto fino magari a reati che abbiano aggancio alla commissione reati fino anche non definitivi accertati con sentenza non definitiva ma dai carichi pendenti che abbiano aggancio con l'appalto da eseguire quindi veramente è un mare come dicevo prima quello dei gravi illeciti professionali per cui bisogna stare molto attenti diciamo nella individuazione e comunque ci fa una giusta riflessione il Tarpuglia sì tassatività delle cause di esclusione ma i gravi illeciti professionali che sono un requisito previsto dall'articolo TAN e sono tutt'altro che indicati tassativamente anzi sono proprio riservati alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Veniamo a quest'altra sentenza sulla tassatività delle cause di esclusione per quanto riguarda l'offerta economica. Allora l'amministrazione può imporre in sede dell'ex specialis e appena di esclusione l'indicazione nell'offerta economica di prezzi unitari quindi c'è questa indicazione nella formulazione di prezzi unitari quindi indicazione appena di esclusione dei prezzi unitari dell'offerta economica non venendo in ridevo la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui era l'articolo 83,8 del decreto legislativo 50 del 2016 in continuità poi con questo era previsto anche dall'articolo 46,1 bis del 163 del 2006 quindi il precedente codice degli appalti trattandosi di vizio insanabile dell'offerta economica quindi vedete c'è questa sentenza che quindi è un'altra sentenza che si pone nel solco diciamo dell'individuazione delle cause di esclusione da parte della stazione appaltante ma questo rispetto al caso che abbiamo visto prima a mio avviso ha un aggancio più forte no proprio perché sapete la diciamo la previsione l'articolo 83,9 sul soccorso istruttorio proprio è invece rigida nel prevedere la l'impossibilità di soccorso istruttorio per quanto riguarda l'offerta tecnica e l'offerta economica quindi quindi allora io stazione appaltante posso immaginare e quindi posso come dire adiuvare questa questa interpretazione del tar comunque ho l'aggancio con questa rigidità sull'offerta economica quindi se la stazione appaltante indica dei paletti per quanto riguarda la formulazione dell'offerta economica che effettivamente è un passaggio molto delicato no e quindi poco soggetto ad interpretazioni e allora ci sta a mio avviso che si prevede appunto una causa esplicita di esclusione da parte della stazione appaltante quindi in questo caso non si pone il problema di interpretativo cioè è previsto ed è legittimo a mio avviso lo è diciamo una causa di questo tipo perché trova aggancio appunto nell'articolo 83,9 che limita proprio il soccorso istruttore nei casi di offerta economica e di offerta tecnica per quanto riguarda la tassatilità delle cause di esclusione il passo è che sapete il codice identificativo rilasciato dal dall'ANAC per il controllo dei requisiti con la VCPAS nelle gare pubbliche la normativa primaria anche alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione non indica il possesso del passo è quale requisito di partecipazione previsto appena di esclusione dalla procedura concorsuale quindi non c'è nessuna norma quindi si parte da questo che prevede che diciamo il passo è che il passo è che sia requisito di partecipazione previsto appena di esclusione neppure può ritenersi sotto il profilo operativo e funzionale che lo stesso si configuri come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti la mancata produzione in sede di gara integra una mera carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità essenziale sopperibile mediante soccorso istruttorio regolarizzando così la documentazione senza che da ciò derivi tra l'altro la necessità per la stazione appaltante di applicare alcuna sanzione pecuniaria questa è una sentenza sempre recente diciamo del tarpiemonte ma la giustizia è pacifica diciamo su questo e la mancata produzione del passo non costituisce causa di esclusione sì non costituisce causa di esclusione se non è previsto ovviamente come causa di esclusione dalla legge allora in quel caso allora che cosa succede cioè che cosa succede se invece la procedura di gara preveda come causa di esclusione la mancanza del passo e questo è un caso diciamo più interessante perché va andrebbe a sindacare quel passaggio ulteriore quindi forse conviene magari non inserirlo diciamo io farei così in maniera tale da creare proprio problemi interpretativi sulla legittimità della clausa del bando di gara che prevede appunto la causa di esclusione espressa in caso di mancanza del passo e veniamo a quest'altra sentenza sempre sulle cause di esclusione sul computometrico che cosa succede se il computometrico non è quello che prevede appunto la stazione appaltata allora nell'ipotesi in cui sia il computometrico non estimativo che quello estimativo non costituiscono di per sé secondo le specifiche disposizioni della legge di gara elementi essenziali per l'ammissibilità e validità dell'offerta essendo qualificati nell'un caso quanto al computometrico non estimativo elementi illustrativi delle lavorazioni da eseguire e nell'altro quanto al computometrico un semplice allegato all'offerta economica l'eventuale imprecisa irregolare incompleta o lacunosa redazione degli altri quindi però parliamo attenzione di imprecisa irregolare incompleta o lacunosa quindi comunque un computometrico ci deve essere ci deve essere quindi non non la mancanza del computometrico ma una presentazione un computometrico che sia imprecisa irregolare incompleta o lacunosa quindi in questo caso non possono determinare l'esclusione dalla gara ma eventualmente incidere sulla valutazione dell'offerta tecnica o dare luogo ad una richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante in relazione all'eventuale valutazione di congruità dell'offerta economica ciò in virtù del principio della tassatività delle cause di esclusione e in mancanza di un'apposita clausola della legge di gara che ne prevedesse espressamente l'esclusione quindi vedete la giurisprudenza precedente era molto agganciata diciamo a questi aspetti proprio della della previsione nel 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 bando di gara della causa di esclusione e quindi l'unico aspetto che si andava a valutare era proprio quello della dell'aggancio con diciamo un un requisito diciamo questo che che non fosse diciamo manifestamente sproporzionato e ragionevole eh quindi dando molto spazio alla discrezionalità della della pubblica amministrazione anche in questo caso in effetti eh noi eh potevamo pure eh se invece fosse stato previsto diciamo come causa di esclusione negli atti di gara abbiamo fatto lo stesso ragionamento fatto prima a proposito dell'offerta economica è inserito eh negli atti di gara l'offerta economica è è valutata con molta attenzione dal dal legislatore tanto è vero che eh diciamo il soccorso istruttorio sull'offerta economica è veramente eh circoscritto a pochi pochi casi eh che riguardano solo gli aspetti formali questo eh è stato valutato dal consiglio di stato come un aspetto formale suscettibile di soccorso istruttore ma perché non era previsto diciamo come causa esclusione dal 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 bando di gara per cui in questo caso diciamo il consiglio di stato ha valutato il computo metrico estimativo non essere elemento essenziale ma elemento che ovviamente dell'offerta economica ma solo un elemento di valutazione della congruità dell'offerta economica quindi non eh incidente proprio sulla offerta in sé ai fini dell'aggiudicazione della gara per cui non essendo stata prevista diciamo nell'ambito del degli atti di gara e allora è ammissibile in questo caso un soccorso istruttorio perché non rientra appunto tra le cause di tassatività delle cause esclusione perché non è legato direttamente all'offerta economica. Vediamo quest'altra situazione perché ci apre a un ragionamento questa sentenza del Tar Veneto tutte recenti nel momento in cui l'Alex Specialist di gara nel declinare le modalità di esecuzione dell'appalto non qualifica espressamente un determinato elemento dell'offerta quale requisito di ammissione della procedura di gara l'eventuale mancanza o discordanza non può determinare l'esclusione del concorrente in virtù del principio di tassatività delle cause esclusione. Quindi questa sentenza che cosa fa? In maniera più netta ci dice che nel momento in cui la legge non prevede quella come causa di esclusione e la Lex Specialist di gara non qualifica espressamente un determinato elemento dell'offerta quale requisito di ammissione alla procedura di gara l'eventuale mancanza o discordanza non può determinare l'esclusione del concorrente in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione. Quindi vedete ci dà un elemento che è importante o meglio sarebbe importante alla luce di quello che vi dirò da qui a poco perché ci dice ma se diciamo nella legge né la Lex Specialist qualificano quel determinato elemento come requisito di ammissione io non posso escludere perché naturalmente vige il principio di tassatività delle cause esclusione. Se volete è un principio semplice e sarebbe anche di facile applicazione. Sarebbe perché uso il condizionale perché forse qualcuno di voi che ha partecipato diciamo alla formazione che abbiamo fatto mi ricordo forse ne abbiamo parlato in occasione dell'ultimo incontro che abbiamo fatto in presenza lo ricordo con grande piacere diciamo era il primo ottobre diciamo del 2020 insomma in occasione appunto dell'ultimo incontro dell'ultimo incontro che abbiamo fatto e insomma o forse ne abbiamo parlato anche in occasione di altri webinar e io vi ho proposto questo caso studio risolto dal Consiglio di Stato vediamolo rivediamolo insieme anche per quelli che non avessero seguito diciamo questo questo webinar o il corso in presenza adesso non ricordo quando l'ho proposto quindi il caso è questo la società cooperativa xx impugnava dinanzi al tar per la campagna il provvedimento numero del 19 febbraio 2018 di esclusione dalla procedura di gara aperta da giudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indetta dall'ufficio territoriale del governo prefettura di casetta ai fini dell'affidamento in convenzione dei servizi di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti asilo in particolare l'esclusione era stata disposta all'esito del riscontro di alcune carenze documentali per non aver prodotto le certificazioni igienico-sanitarie rilasciate dall'autorità territorialmente competente in relazione alle strutture alloggiative dichiarate in disponibilità da adibire a centro di accoglienza temporale in violazione della prescrizione dell'articolo 11.4 lettera B del disciplinare di gara avendo la ricorrente inserita nella busta A contenente la documentazione amministrativa solo la richiesta di rilascio del certificato risalente al 24 gennaio 2018 a firma dei rispettivi proprietari delle due strutture alloggiative indicate nell'offerta quindi praticamente nei documenti di gara era richiesta la produzione di questo certificato di idoneità igienico-sanitaria degli alloggi destinati ai cittadini e stradini richiedenti asilo ed era previsto diciamo dal disciplinare di gara la produzione di questo documento. Questo documento non era stato presentato ma al posto del documento era stata presentata soltanto la richiesta di questo certificato risalente al 24 gennaio del 2018 in sintesi la ricorrente assumeva che il mancato tempestivo deposito del certificato igienico-sanitario delle strutture alloggiative non avrebbe potuto determinare la sua escursione dalla gara non essendo per detta in osservanza prevista la sanzione espulsiva dal disciplinare. L'amministrazione avrebbe dovuto pertanto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83,9 del decreto legislativo 50 del 2016 consentendole di produrre la prescritta certificazione del resto richiesta prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta che era fissata al 30 gennaio 2018 e poi effettivamente rilasciata in data 22 febbraio 2018. Quindi chiaramente siamo nel caso della tassatività delle cause esclusione perché l'operatore economico accepisce ma tu non hai previsto questa come causa di esclusione io comunque il certificato l'ho avuto o ti ho prodotto l'istanza, la richiesta diciamo per avere questo certificato l'ho avuto effettivamente perché non mi hai consentito di produrre diciamo questa certificazione e il Tar Campania ha accolto il ricorso ritenendo fondati il primo e il secondo motivo con l'assorbimento delle altre censure cioè in quanto la carenza documentale di qua era sanabile mediante soccorsi istruttori e non dava luogo all'esclusione dalla gara. Quindi il Tar ha accolto il ricorso. Poi il Ministero invece, il Ministero dell'Interno ha proposto appello al Consiglio di Stato e vediamo il Consiglio di Stato che cosa ha detto. La produzione del prescritto certificato costituiva un adempimento non meramente formale ma sostanziale in quanto comprovante il possesso di un requisito di partecipazione attinente alla dimostrazione della capacità professionale del concorrente in relazione al possesso di una struttura idonea allo svolgimento dei servizi di accoglienza necessario in rapporto alla natura dell'oggetto dell'appalto da affidarsi. Quindi vedete che cosa ha fatto il Consiglio di Stato? Ha interpretato la mancanza di questo documento non come un elemento formale ma come un requisito anche se non era previsto come requisito dalla Lex Specialis. Quindi lo ha interpretato il Consiglio di Stato come requisito. Quindi si discosta ovviamente da quella pronuncia del Tar Veneto, quella che abbiamo visto prima, dove diceva che il requisito deve essere previsto dall'Ex Specialis. E dà anche una motivazione per il Consiglio di Stato in questa circostanza. Con tali prescrizioni, in definitiva, la stazione appaltante altro non ha fatto che richiedere legittimamente la dimostrazione dei requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. A esenzio dell'articolo 83,6 del Decreto legislativo 50 del 2016, nonché le condizioni di partecipazione ai fini della verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative delle competenze tecniche e professionali. A esenzio dell'articolo 83,8 del Decreto legislativo 50 del 2016. Quindi, in pratica, ha agganciato questo documento, che era la certificazione igienico-sanitaria, quindi un documento importante, ai requisiti specifici previsti dall'articolo 83 del codice degli appalti, e quindi ha ritenuto che, ma con un'interpretazione, quindi al di là proprio della previsione del bando di gara, perché gli atti di gara non prevedevano, diciamo, l'esclusione come conseguenza della mancata presentazione di questo documento, ma c'è arrivato il Consiglio di Stato in sede interpretativa, perché ha detto che comunque quel documento rappresentava un requisito previsto dalla legge, quindi dall'articolo 83 del codice degli appalti. Quindi, vedete, comunque c'è una incertezza, perché anche, diciamo, se non c'è una previsione espressa negli atti di gara, comunque, attraverso un'attività interpretativa, il giudice può arrivare a individuare quel documento, anche nel silenzio, diciamo, dell'ex specialis, come requisito che impone, ovviamente, l'esclusione dell'operatore economico dalla gara. Quindi, comunque, bisogna stare molto, molto attenti, però questa sentenza, ovviamente, apre, perché è chiaro che un aggancio, diciamo, ai casi, ai requisiti di cui è l'articolo 83, questo sarà sempre possibile in maniera più o meno diretta. Quindi, ecco, insomma, quella sentenza del Tarveneto, in qualche modo, ci avrebbe fatto stare più tranquilli, perché, allora, se è previsto come requisito o dalla legge o dagli atti di gara, e allora, ma nel momento in cui noi comunque dobbiamo arrivare a un'interpretazione, siamo soggetti a un'interpretazione, e allora, chiaramente, c'è comunque un margine di incertezza, diciamo, interpretativa. Veniamo a un caso che ho visto, diciamo, vi sta appassionando, diciamo, ho visto sul lancio una discussione, sulla indicazione dei decimali. Quindi volevo, appunto, indicare questa sentenza, non recente, ma è una sentenza regionale, e quindi del Tar regionale, e quindi ve la indico. Il bando di gara, in questo caso esaminato, all'articolo 14, rubricato a criteri di aggiricazione, precisava che il prezzo offerto deve essere determinato, quindi parliamo della causa di esclusione, quando c'è una indicazione errata dei decimali. Causa di esclusione, costituisce causa di esclusione, diciamo, questa situazione. Allora, il bando di gara, ripeto, precisava che il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'articolo 1,9 della legge regionale 20 del 2007, mediante offerta espressa in una cifra percentuale di ribasso con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quattro. La Igeco SRL ha formulato la propria offerta, consistente nel ribasso del 30,655%, quindi tre cifre decimali, utilizzando soltanto tre cifre decimali, e il seggio di gara l'ha ritenuta legittima, limitandosi ad aggiungere autonomamente uno zero finale a detta cifre. Asserisce la ricorrente che tale incompletezza avrebbe dovuto invece essere sanzionata con l'esclusione dalla gara.